Era il 1999 quando BMW presentò per la prima volta al pubblico la X5, una fuoristrada nata per la strada. Da allora nel mondo ne sono stati venduti 2 milioni e 100 mila esemplari e più di 64 mila in Italia. Quella che sta per arrivare sulle nostre strade è la quarta generazione, ma si sa, squadra che vince non si cambia. Ecco perché dal punto di vista estetico la nuova X5 mantiene le stesse proporzioni del modello precedente con superfici pulite e linee tese. Sebbene sia stata l'auto che ha trasformato il SUV in un SUV, ovvero il tanto conosciuto Sports Utility Vehicle, in uno Sports Activity Vehicle con doti stradali impeccabili, l'ultima nata esprime un più marcato accento al fuoristrada. Oggi si avvicina un po' di più al mondo fuoristrada mantenendo ovviamente le medesime caratteristiche di dinamica su strada. Questo è possibile grazie all'addizione di sospensioni pneumatiche su entrambi gli assi che permettono di variare l'altezza del veicolo da terra, un'escursione di ben 8 centimetri da meno 4 per rendere più confortevole la salita a bordo oppure le condizioni dinamiche, quindi la sportività del veicolo, a più 4 per garantire un utilizzo anche in condizioni di fuoristrada estremo. A cui si abbinano 4 condizioni di fuoristrada, quindi delle caratteristiche di utilizzo su sabbia, su neve, su roccia o su uno stelato più semplice, dove cambiano le condizioni di altezza del veicolo ma anche di reazione dell'elettronica di bordo, quindi il cambio, il differenziale posteriore, il motore si adeguano tutte alle nuove condizioni per rendere le condizioni di aderenza al terreno sempre le migliori e le più convenienti. A bordo si apprezzano le finiture di lusso che impreziosiscono l'abitacolo e i numerosi optional disponibili. Da questo punto di vista l'elenco è davvero lungo. L'ambiente interno può essere personalizzato con diverse combinazioni di luci d'ambiente, regolabili per colore e intensità. Anche il tetto Sky Lounge in cristallo anti-raggi ultravioletti può contribuire a creare un'atmosfera unica durante il viaggio. Chi apprezza i dettagli esclusivi può scegliere la leva del cambio con copertura in vetro e i portabevande con funzione riscaldante e refrigerante. L'X5 2018 dispone di numerosi sistemi di guida automatizzata e non solo parcheggia da sola, ma è anche in grado di percorrere a ritroso in modo completamente automatico gli ultimi 50 metri percorsi. Al lancio la gamma motori si compone del motore benzina X-Drive 40i da 340 CV e da due motori diesel a sei cilindri X5 M50D e X5 30D, rispettivamente da 400 CV e 265 CV. Disponibile anche con sette posti, la nuova BMW X5 nel 2019 arriverà anche in versione ibrida plug-in.